Cassius Marcellus Clay, GR, meglio conosciuto come Muhammad Ali, è stato uno dei pugili più famosi e influenti della storia, ma la sua vita va ben oltre il ring. Nato il 17 gennaio 1942 a Louisville, nel Kentucky, Ali ha affrontato non solo avversari sul quadrato, ma anche le ingiustizie della segregazione razziale e ha lottato per i diritti civili negli Stati Uniti. Figlio di Cassius Marcellus SR e Odessa Lee Gredi, Ali proveniva da una famiglia con radici diverse, suo padre era di discendenza nigeriana e statunitense, mentre sua madre aveva origini malgasce e un nonno irlandese. Cresciuto in un ambiente di segregazione razziale, Ali ha subito la discriminazione fin dalla sua infanzia. Sua madre, Odessa, raccontò un episodio in cui al giovane Cassius fu negato il diritto di acquistare una bottiglia d'acqua in un negozio, un'esperienza che lo colpì profondamente e contribuì a plasmare la sua visione del mondo. Il giovane Clay fu anche testimone degli orrori del razzismo in America, in particolare dell'assassinio brutale di Emmett Till nel 1955. Questo evento lo sconvolse e lo spinse ad agire contro l'ingiustizia. Insieme a un amico di colore, Clay compì atti vandalici in segno di protesta contro il razzismo, dimostrando già da giovane il suo impegno per la giustizia e l'uguaglianza. Ma è stato sul ring che Ali ha davvero fatto la storia. Conosciuto per la sua abilità straordinaria e la sua personalità carismatica, Ali è diventato il campione dei pesi massimi del mondo e ha dominato la scena del pugilato negli anni 60 e 70. La sua tecnica, la sua velocità e la sua capacità di anticipare i movimenti degli avversari gli hanno permesso di ottenere numerose vittorie e di diventare una figura iconica nello sport. Tuttavia, Ali non è stato solo un campione sul ring, ma anche un leader nel movimento per i diritti civili. Nel 1964, dopo aver vinto il titolo mondiale dei pesi massimi contro Sonny Liston, Ali si convertì all'Islam e adottò il nome di Muhammad Ali, rifiutando di essere chiamato con il nome che gli era stato dato dai suoi padri schiavi. La sua decisione di rifiutare la leva militare durante la guerra del Vietnam, basata sulle sue convinzioni religiose e morali, gli costò il titolo mondiale e lo mise al centro di polemiche e controversie. Tuttavia, Ali mantenne la sua posizione, dimostrando il suo coraggio e la sua determinazione nel difendere le proprie convinzioni. Oltre alla sua attività nel pugilato e nell'attivismo sociale, Ali è stato anche un'icona culturale e un simbolo di speranza e ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo. La sua voce potente e la sua presenza carismatica hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia, e il suo spirito combattivo e la sua dedizione alla giustizia continuano a essere fonte di ispirazione per le generazioni future. La storia di Muhammad Ali, una delle figure più iconiche nel mondo del pugilato e dell'attivismo sociale, ha inizio nella sua città natale di Louisville, nel Kentucky, dove crebbe in un contesto di segregazione razziale e discriminazione. Tuttavia, è proprio in questo contesto che si formò il carattere e il talento straordinario di Ali. La sua avventura nel mondo del pugilato iniziò in modo piuttosto casuale, quando un poliziotto di Louisville di nome Joe e Martin lo incontrò per la prima volta. Dodicenne e arrabbiato per il furto della sua bicicletta, il giovane Clay minacciava di vendicare l'ingiustizia con le sue mani. Il poliziotto, tuttavia, lo indirizzò verso una strada diversa, consigliandogli di imparare prima a boxare. Fu così che Clay fu portato alla palestra Columbia, dove iniziò a mettere in mostra il suo talento naturale per il pugilato. Da dilettante, Clay si distinse rapidamente, vincendo sei Kentucky Golden Gloves, due Golden Gloves nazionali e un titolo amatore Athletic Union. Nei suoi ultimi anni da dilettante, ebbe al suo angolo Chuck Bodak, un mentore che contribuì alla sua crescita come pugile. Il culmine della sua carriera dilettantistica arrivò alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove Clay conquistò l'oro nei pesi medio-massimi. La sua vittoria fu un momento di grande orgoglio per la comunità afroamericana, ma la sua esperienza a Roma non fu esente da discriminazioni razziali. Ali raccontò più tardi di aver gettato la sua medaglia nel fiume Ohio come protesta contro la persistente discriminazione che affliggeva il suo paese. Anche se la veridicità di questa storia è stata oggetto di controversie, resta il fatto che Ali ha sempre lottato contro l'ingiustizia e ha usato la sua piattaforma per promuovere il cambiamento sociale. La sua carriera da professionista lo ha reso una leggenda vivente. Con la sua abilità straordinaria, la sua velocità e la sua forza, Ali ha dominato la scena del pugilato mondiale, diventando il campione dei pesi massimi e affrontando alcuni dei più grandi pugili della storia. Ma più importante ancora, Ali ha usato la sua fama e la sua voce per combattere per i diritti civili e per la pace nel mondo. Muhammad Ali, noto all'epoca come Cassius Clay, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del pugilato, non solo per le sue vittorie sul ring, ma anche per il suo stile stravagante e il suo carisma unico. Dopo il suo passaggio al professionismo nel 1960, Ali iniziò a scalare le classifiche con una serie impressionante di vittorie. Nei suoi primi tre anni da professionista, accumulò un record di 19 vittorie e nessuna sconfitta, dimostrando fin da subito di essere un talento eccezionale nel mondo del pugilato. Tra i suoi avversari più temibili di quel periodo vi furono Tony Esperti, Jim Robinson, Donnie Fleeman, e molti altri. Nonostante la giovane età e la relativa inesperienza nel mondo del professionismo, Ali riuscì a sconfiggere pugili di grande esperienza e talento, dimostrando una determinazione e una capacità di adattamento eccezionali. Uno degli incontri più memorabili di quegli anni fu la sfida con Doug Jones nel marzo del 1963. Jones, anch'egli un pugile di talento, diede filo da torcere a Ali, mettendolo in difficoltà fin dal primo round. Tuttavia, Ali riuscì a mantenere la calma e a dominare il resto del combattimento, conquistando una vittoria per decisione unanime. Un altro momento iconico della carriera di Ali fu il suo match con l'inglese Henry Cooper a Wembley nel 1963. Dopo essere stato atterrato nel quarto round, Ali riuscì a riprendersi e a infliggere una sconfitta devastante a Cooper, dimostrando la sua determinazione e la sua resilienza sul ring. Ma non erano solo le sue abilità pugilistiche a distinguere Ali dagli altri. Era anche il suo comportamento provocatorio e stravagante sul ring che lo rendeva una figura così affascinante per il pubblico. Ali non esitava a prendere in giro i suoi avversari e a vantarsi delle proprie abilità, suscitando l'ira di molti appassionati di pugilato ma anche l'ammirazione di chi apprezzava il suo coraggio e la sua autenticità. Il 25 febbraio 1964, a Miami, il mondo del pugilato assistette a uno degli incontri più leggendari della storia. Muhammad Ali, all'epoca ancora conosciuto come Cassius Clay, affrontò il campione dei pesi massimi sonni Liston in una sfida che sarebbe diventata un punto di svolta nel mondo dello sport. Liston era noto per la sua potenza e la sua aggressività sul ring, e aveva conquistato il titolo mondiale battendo il celebre Floyd Patterson. Quando Clay si presentò come il suo sfidante, molti non gli diedero molte chance di vittoria. Tuttavia, Clay non era uno a cui piaceva seguire le regole del gioco. Già durante il match di rivincita tra Liston e Patterson, aveva dato prova del suo temperamento stravagante e provocatorio, sottolineando di essere il vero campione e lanciando insulti contro Liston. Nonostante le previsioni a sfavore, Clay si presentò sul ring con un coraggio e una determinazione sorprendenti. Nel corso dei primi round, riuscì a evitare i colpi potenti di Liston e a contrattaccare con una velocità e una precisione impressionanti. Tuttavia, nel quinto round, Clay fu momentaneamente accecato da una sostanza sconosciuta sugli indumenti di Liston, un'azione che avrebbe sollevato polemiche e sospetti nell'ambiente della box per anni a venire. Nonostante l'incontro fosse stato caratterizzato da momenti di tensione e incertezza, Clay riuscì a riprendersi e a dominare l'incontro nei round successivi. Liston, con la spalla praticamente paralizzata e il volto tumefatto, alla fine si arrese. Clay fu dichiarato vincitore per knock-out tecnico e divenne il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Quell'incontro segnò l'inizio di una nuova era nel pugilato e nella cultura popolare. Muhammad Ali, con la sua personalità carismatica e il suo talento straordinario, divenne un'icona mondiale e un simbolo di coraggio e determinazione per milioni di persone in tutto il mondo. Il 25 maggio 1965, a Lewiston, nel Maine, il mondo assistette a uno degli incontri più controversi e discussi nella storia del pugilato. Il secondo match tra Muhammad Ali, all'epoca ancora conosciuto come Cassius Clay, e Sonny Liston. Questo incontro, noto per il suo esito rapido e controverso, è diventato celebre per il misterioso pugno fantasma che avrebbe messo fine alla contesa. Il clima di tensione che circondava l'incontro era palpabile fin dall'inizio. Minacce di attentati, sospetti di trame oscure e un pubblico ridotto contribuirono a creare un'atmosfera carica di suspense e incertezza. Il confronto era diventato molto più di una semplice sfida sportiva. Era diventato un riflesso delle tensioni politiche, sociali e culturali dell'epoca. Quando il match ebbe inizio, ci fu subito un momento che avrebbe fatto la storia. Al minuto 1.44 della prima ripresa, Ali colpì Liston con un colpo apparentemente innocuo, ma che sarebbe passato alla storia come il pugno fantasma. Liston cadde a terra, apparentemente tramortito, mentre Ali lo incitava ad alzarsi per continuare il match. Ma ciò che successe dopo alimentò le speculazioni e le polemiche. Liston indugiò a rialzarsi, mentre l'arbitro sembrava distratto dalle proteste di Ali. Quando finalmente Liston si alzò, erano già passati 12 secondi dall'atterramento. L'arbitro decise di far riprendere il match, ma poco dopo sospese la contesa, dichiarando Ali vincitore per KO. L'immagine di Ali che sovrasta Liston mentre questi è disteso sul tappeto è diventata iconica nel mondo del pugilato. Ma il mistero del pugno fantasma alimentò una serie di teorie e congetture. Alcuni sostenevano che il colpo fosse stato così potente da non essere stato visibile all'occhio umano, mentre altri ipotizzavano che Liston avesse simulato l'atterramento. Le polemiche sull'effettiva efficacia del colpo si prolungarono per anni, con alcuni esperti che cambiarono idea dopo aver rivisto al rallentatore la ripresa. Anche Muhammad Ali stesso, in seguito, espresse dubbi sull'efficacia del suo colpo, chiedendo più volte se avesse davvero colpito l'avversario. Nonostante le controversie, l'incontro rimane uno dei momenti più memorabili nella carriera di Ali e nella storia del pugilato. La sua vittoria su Liston non solo consolidò la sua leggenda come uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, ma confermò anche la sua abilità nel creare uno spettacolo che andava oltre il semplice ring. Muhammad Ali, uno dei più grandi pugili della storia, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del pugilato con le sue abilità straordinarie, la sua personalità magnetica e il suo impegno per la giustizia sociale. Dopo aver conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi nel 1964 contro Sonny Liston, Ali ha difeso il suo titolo con tenacia e determinazione, affrontando una serie di avversari di altissimo livello. Dopo la vittoria contro Liston, Ali ha affrontato una serie di sfide, dimostrando la sua superiorità sul ring e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di combattimento. Contro Floyd Patterson, ha dimostrato la sua potenza e agilità, mettendo l'ex campione KO nel dodicesimo round. La sua abilità nel dominare l'avversario è stata evidente anche nei confronti di George Cuvalo, Henry Cooper, Brian London e Carl Mildenberger, tutti battuti con autorità e determinazione. Ma Ali non si è limitato a sconfiggere i suoi avversari sul ring, ha anche usato il suo status di campione del mondo per promuovere cause sociali e politiche. Durante il suo match contro Ernie Terrell, ha fatto sentire la sua voce contro il razzismo e l'intolleranza, chiedendo ripetutamente all'avversario di chiamarlo con il suo nome da musulmano convertito. Questo atto di protesta ha attirato l'attenzione su questioni importanti e ha reso Ali un simbolo di resistenza e coraggio. Ma la vera grandezza di Ali risiedeva nella sua capacità di intrattenere il pubblico e allo stesso tempo dominare il suo sport. La sua abilità nel galleggiare sul ring, la sua velocità di pugno e la sua intelligenza tattica lo hanno reso uno degli atleti più completi e affascinanti di tutti i tempi. E nonostante il suo stile di combattimento unico e spettacolare, Ali è rimasto imbattuto, dimostrando la sua superiorità su tutti i pugili più quotati del suo tempo. Nel marzo del 1966, Muhammad Ali, già campione mondiale dei pesi massimi, prese una decisione che avrebbe cambiato la sua vita e la storia del mondo dello sport, rifiutò di essere arruolato nelle forze armate degli Stati Uniti per combattere in Vietnam. Questa scelta, motivata dalle sue convinzioni religiose e politiche, lo portò a una serie di battaglie legali e a un periodo di esilio forzato dal mondo della box che durò oltre tre anni. La decisione di Ali di rifiutare l'arruolamento militare non fu presa alla leggera. Come seguace della Nation of Islam, Ali credeva che la sua fede non gli permettesse di partecipare a una guerra considerata ingiusta e immorale. Inoltre, Ali espresse chiaramente le sue obiezioni alla guerra del Vietnam, definendola una guerra di oppressione contro il popolo vietnamita e una guerra che discriminava i neri americani. Tuttavia, la sua decisione di disobbedire all'arruolamento militare portò conseguenze immediate e gravi. Nel 1967, Ali fu condannato a cinque anni di prigione per renitenza alla leva e gli furono ritirate le licenze dalle commissioni atletiche pugilistiche statunitensi. Questo significava che non avrebbe potuto combattere professionalmente per un lungo periodo di tempo, perdendo la possibilità di guadagnare e difendere il suo titolo mondiale. Il periodo di esilio dal ring fu un momento difficile per Ali. Non solo dovette affrontare le conseguenze legali delle sue azioni, ma anche il giudizio pubblico e le critiche della stampa. Tuttavia, rimase saldo nelle sue convinzioni e mantenne la sua posizione di opposizione alla guerra del Vietnam, diventando un simbolo di resistenza e ribellione per molti americani. Durante questo periodo, Ali continuò a lottare, non solo contro le autorità statunitensi, ma anche contro il razzismo e l'ingiustizia sociale. Partecipò attivamente al movimento per i diritti civili e divenne un'icona della lotta per la libertà e l'uguaglianza. La sua voce potente e il suo coraggio ispirarono milioni di persone in tutto il mondo. Finalmente, nel 1970, la Corte Suprema degli Stati Uniti annullò la condanna di Ali per renitenza alla leva, riconoscendo il suo diritto di obiezione di coscienza. Questa decisione aprì la strada al suo ritorno sul ring e alla ripresa della sua carriera di pugile professionista. Il ritorno di Ali al pugilato nel 1970 segnò l'inizio di una nuova fase della sua carriera, caratterizzata da grandi sfide e trionfi. Nonostante il tempo perso e le difficoltà incontrate, Ali dimostrò ancora una volta la sua straordinaria abilità e la sua determinazione, diventando ancora una volta campione del mondo e consolidando il suo status di leggenda vivente. Dopo tre anni di esilio forzato dal ring, Muhammad Ali tornò nel mondo della box nel 1970 con una determinazione rinnovata e un chiaro obiettivo, riconquistare il suo posto come campione del mondo dei pesi massimi. La sua assenza dal ring non aveva solo interrotto la sua carriera, ma aveva anche portato alla sua privazione del titolo mondiale da parte delle federazioni pugilistiche. Tuttavia, Ali non aveva mai perso il suo status di campione lineare, riconosciuto dalla rivista The Ring, e ora era determinato a dimostrare al mondo intero di essere ancora il migliore. Il suo ritorno al pugilato fu accolto con grande attesa e interesse da parte dei media e dei fan di tutto il mondo. Il suo primo match dopo l'esilio fu contro Jerry Quarri, un incontro che terminò con una vittoria per Ali per KO tecnico al terzo round. Questo risultato confermò che Ali non aveva perso il suo tocco e la sua potenza sul ring, preparandolo per sfide ancora più impegnative. Successivamente, Ali cercò un avversario degno che potesse confermare la sua legittimità come contendente al titolo mondiale. Trovò questo avversario in Oscar Bonavena, un pugile argentino coraggioso e resistente, mai stato atterrato in carriera. Bonavena aveva già affrontato Giofrazie, campione mondiale in carica, dimostrando di poter competere ad alti livelli nel panorama dei pesi massimi. Il match tra Ali e Bonavena, disputato il 7 dicembre 1970, era molto atteso e pieno di tensione. Durante la conferenza stampa precedente all'incontro, i due pugili si scambiarono dichiarazioni roboanti e si minacciarono reciprocamente, alimentando ulteriormente l'atmosfera di rivalità e competizione. Il combattimento fu all'altezza delle aspettative, con Bonavena che riuscì a tenere testa a Ali per gran parte del match. Tuttavia, la superiorità tecnica e la determinazione di Ali alla fine prevalsero, e Bonavena fu fermato per KO alla quindicesima ripresa, dopo essere andato al tappeto per la terza volta nello stesso round. Questa vittoria confermò il ritorno di Ali al vertice della divisione dei pesi massimi e lo avvicinò ancora di più alla possibilità di sfidare nuovamente Giofrazie per il titolo mondiale. Il mondo della box ha assistito a uno degli scontri più epici della storia quando Muhammad Ali e Ken Norton si sono affrontati sul ring. Era il 31 marzo 1973 a San Diego, e milioni di appassionati erano incollati ai loro schermi televisivi per vedere chi avrebbe prevalso in questo confronto titanico. Ali, reduce dalla sua storica sconfitta contro Giofrazie nell'incontro del secolo, era determinato a dimostrare al mondo intero che era ancora il re indiscusso della divisione dei pesi massimi. Tuttavia, di fronte a lui c'era un avversario ostico. Ken Norton, un pugile duro, resistente e con un record impressionante di 29 vittorie e solo una sconfitta. L'incontro si preannunciava come una battaglia intensa e avvincente, e non ha deluso le aspettative. Sul ring, Norton ha dimostrato di essere un avversario formidabile, con colpi potenti e una determinazione incrollabile. Ali, con la sua abilità tecnica e la sua maestria sul ring, ha cercato di prendere il controllo del combattimento, ma Norton non ha mai ceduto terreno facilmente. La lotta è stata estenuante, con entrambi i pugili che hanno dato il massimo di sé per ottenere la vittoria. Tuttavia, alla fine della dodicesima ripresa, è stato Norton a emergere come vincitore per decisione unanime dei giudici. La sua prestazione straordinaria e la sua determinazione hanno conquistato il rispetto di tutti gli spettatori e dei fan di tutto il mondo. La vittoria di Norton ha segnato la seconda sconfitta di Ali da professionista, ma il campione non si è lasciato abbattere. Ha immediatamente cominciato a pianificare la sua rivincita, determinato a riconquistare il suo titolo e a dimostrare al mondo che era ancora il migliore. La rivincita tra Ali e Norton, avvenuta il 10 settembre 1973, è stata uno degli incontri più attesi della storia della box. Questa volta, Ali è tornato più determinato che mai, e con una strategia rinnovata è riuscito a sconfiggere Norton per decisione unanime dei giudici. La vittoria di Ali ha segnato il suo ritorno al vertice della divisione dei pesi massimi e ha confermato la sua posizione come uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Il 28 gennaio 1974, il mondo della box è stato testimone di uno degli incontri più epici e attesi di tutti i tempi, la rivincita tra Muhammad Ali e Joe Frazier. Il palcoscenico era pronto per un'altra battaglia titanica tra due dei più grandi pugili della storia, e gli appassionati non sono rimasti delusi. Dopo la storica vittoria di Frazier su Ali nel combattimento del secolo nel 1971, entrambi i pugili erano determinati a dimostrare la propria superiorità sul ring. La rivalità tra i due era intensa, alimentata da un profondo rispetto reciproco mescolato a un sano spirito competitivo. La tensione era palpabile già durante la visita dei pugili alla sede della BC, dove un diverbio tra Ali e Frazier ha portato alla luce la rivalità che bruciava tra i due campioni. Le parole scambiate furono dure, con Ali che definì Frazier un ignorante, scatenando una reazione infuocata da parte dell'avversario. Ma è stato sul ring che la vera battaglia è iniziata. Fin dall'inizio, Ali ha cercato di imporre il suo ritmo e la sua tecnica superiore, mettendo a segno colpi precisi e incisivi. Frazier, tuttavia, non si è lasciato intimidire e ha risposto con la sua potenza devastante, cercando di prendere il controllo del combattimento. Il momento cruciale è arrivato sul finire del secondo round, quando un destro fulminante di Ali ha ferito Frazier, mettendolo in difficoltà. Tuttavia, grazie all'intervento dell'arbitro Perez, che ha erroneamente fermato i pugili convinto di aver udito la campana, Frazier è riuscito a chiudere la ripresa in piedi. Nonostante la ferocia e la determinazione di Frazier, Ali ha mantenuto il controllo del match con la sua abilità e la sua velocità straordinarie. Alla fine delle dodici riprese, è stato Ali a emergere come vincitore per decisione unanime dei giudici. Il 30 ottobre 1974, Kinshasa, nello Zaire, è stata testimone di uno degli incontri più iconici nella storia della box, The Rumble in the Jungle tra Muhammad Ali e George Foreman. L'atmosfera era elettrica, con il pubblico che sosteneva Ali a gran voce, gridando Ali Beaumai e Ali uccidilo, mentre Foreman si preparava a difendere il suo titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Ali, sempre maestro nel trash talking, ha cercato di innervosire Foreman con provocazioni e insulti, creando un clima di tensione palpabile prima ancora che il primo campanello suonasse. Le scommesse erano nettamente a favore di Foreman, con la stampa che lo considerava il favorito con un rapporto di 3-1. Ma Ali, con la sua abilità di manipolare la psicologia dell'avversario, ha adottato una tattica inaspettata sin dall'inizio. Invece di ballare intorno al ring, come aveva promesso, Ali ha scelto di rimanere alle corde e assorbire i colpi di Foreman, una mossa che avrebbe poi chiamato Ropa Dope. Nei primi round, Foreman ha esercitato una pressione costante su Ali, stringendolo alle corde e cercando di finirlo con colpi potenti. Ma Ali ha resistito, parando i colpi e provocando Foreman con gesti sprezzanti. Man mano che il combattimento proseguiva, Foreman sembrava sempre più stanco e la sua azione diventava disordinata. In quel momento, Ali ha colto l'occasione e ha iniziato a contrattaccare con una serie di colpi rapidi e precisi. Nel quinto round, Ali ha mandato Foreman imbarcollante con una combinazione di colpi al volto. E nell'ottavo round, quando Foreman era ormai stremato, Ali ha sferrato un diretto destro che ha mandato l'avversario al tappeto. La folla è esplosa in un tripudio di gioia mentre l'arbitro ha dichiarato Ali vincitore per KO all'ottavo round. Era la seconda volta che Ali diventava campione del mondo, e questa volta lo aveva fatto contro tutte le previsioni, dimostrando ancora una volta il suo genio pugilistico. Il primo ottobre 1975, nella calura di Manila, nelle Filippine, il mondo della box è stato testimone di uno dei match più epici e brutali mai disputati, il trilla in Manila tra Muhammad Ali e Joe Frazier. Questo incontro, che avrebbe deciso definitivamente chi dei due fosse il più grande, è entrato a pieno titolo nella storia della box come uno dei più intensi e memorabili di sempre. Ali e Frazier, già avversari in due precedenti incontri, si sono scontrati per l'ultima volta mettendo in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. Da un lato c'era Ali, il campione indiscusso, noto per la sua abilità tecnica e la sua lingua tagliente. Dall'altro c'era Frazier, un pugile tosto e determinato, desideroso di riscattare le sconfitte precedenti. Il match è stato un vero e proprio scontro tra titani, con entrambi i pugili che hanno combattuto con ferocia e determinazione, senza risparmiarsi un istante. Il ritmo frenetico e l'intensità del combattimento hanno lasciato senza fiato gli spettatori e hanno messo alla prova la resistenza e la volontà dei due contendenti. Le prime quattordici riprese sono stato un susseguirsi di scambi violenti e colpi potenti, con entrambi i pugili che hanno cercato di dominare l'altro. Ma è stata la quindicesima e ultima ripresa a segnare il culmine del confronto. Ali, con la sua abilità nel pugilato a distanza, ha costretto Frazier a subire una serie di jab precisi e potenti, mettendolo in grande difficoltà. Prima dell'inizio dell'ultima ripresa, l'allenatore di Frazier ha preso la difficile decisione di ritirare il suo pugile, rendendo Ali il vincitore per decisione tecnica. Tuttavia, al momento del ritiro, Ali era in netto vantaggio ai punti, dimostrando ancora una volta la sua superiorità sul ring. Il trilla in Manila è stato un match così intenso e spettacolare che è stato immediatamente riconosciuto come Fight of the Year per l'anno 1975 dalla prestigiosa rivista Ring Magazine. Inoltre, è stato classificato come il più grande combattimento di tutti i tempi con il titolo in palio nella lista dei cento più grandi combattimenti compilata dalla stessa rivista. Dopo anni di gloria e trionfi sul ring, la carriera di Muhammad Ali ha iniziato a declinare a partire dal 1976, segnando l'inizio di una fase difficile per il campione indiscusso dei pesi massimi. La velocità e la potenza che avevano contraddistinto Ali nei suoi anni migliori cominciarono a diminuire, probabilmente a causa dell'avanzare dell'età e degli anni passati nell'arduo mondo della box professionistica. Dal 1977, Ali non riuscì più a mettere KO ai suoi avversari, un segnale evidente del suo declino fisico. Uno degli incontri che evidenziò il declino di Ali fu la vittoria unanime ai punti contro Jimmy Young, dove l'agenzia di stampa Associated Press suggerì che Young avrebbe meritato di vincere con un vantaggio di tre punti. Questo risultato deludente venne seguito da una serie di incontri altrettanto deludenti, inclusa una vittoria ai punti contro Alfredo Evangelista, un pugile considerato poco dotato. Tuttavia, fu l'incontro con Ernie Shavers nel 1977 a segnare un punto di svolta nel percorso di Ali. Nonostante la vittoria per decisione unanime ai punti, Ali ammise che Shavers fu il pugile più potente che avesse mai affrontato, e molti attribuiscono alla violenza di questo match la malattia che lo avrebbe colpito in seguito. Nel 1978, Ali perse il titolo per decisione non unanime ai punti contro Leon Spinks, ma riuscì a riguadagnarlo nella rivincita. Tuttavia, dopo aver annunciato il suo ritiro, ritornò nel 1980 per tentare di riconquistare il titolo WBC contro Larry Holmes. Questo incontro si rivelò un vero disastro per Ali, che, nonostante i suoi sforzi, venne costretto al ritiro dopo la decima ripresa. Il suo ultimo combattimento, nel 1981 contro Trevor Berbic, segnò la fine definitiva della sua carriera sul ring. Ali perse per decisione unanime ai punti e, più significativamente, mostrò i primi sintomi della sindrome di Parkinson, un tragico epilogo per uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Muhammad Ali, noto per la sua straordinaria abilità tecnica e la sua velocità senza eguali, ha ridefinito il concetto di stile di combattimento nel mondo della box. Sin dalle prime fasi della sua carriera, Ali ha mostrato un'eccezionale velocità di mani e piedi per un pugile della sua stazza, caratteristica che lo ha reso un avversario temibile e difficilmente prevedibile per i suoi rivali sul ring. Inizialmente, il giovane Clay, come era conosciuto all'epoca, utilizzava un approccio basato su movimenti agili e una guardia bassa, evitando i colpi alla testa con rapidi spostamenti di direzione. Con il passare del tempo, ha sviluppato un jab pungente e ha migliorato la potenza dei suoi destri, aggiungendo ulteriori elementi alla sua già impressionante abilità tecnica. Prima del ritiro della licenza, il suo stile di combattimento era caratterizzato da un notevole gioco di gambe, che gli consentiva una straordinaria dinamicità sul ring. Grazie alla sua prontezza di riflessi nello schivare i colpi degli avversari e alla sua velocità esecutiva nell'attacco, Ali era in grado persino di combattere con la guardia perennemente abbassata, una mossa audace e insolita per un pugile della sua categoria. Tuttavia, al suo ritorno sul ring dopo il periodo di inattività, Ali non era più in grado di muoversi con la stessa leggerezza di un tempo. Ha dovuto adattare il suo stile di combattimento, concentrandosi maggiormente sui pugni piuttosto che sul lavoro di gambe. Nonostante ciò, ha dimostrato notevoli capacità di incassatore, come evidenziato negli incontri di Kinshasa e Manila, dove ha sopportato colpi devastanti e ha continuato a combattere con determinazione. Il mondo dello sport è oltre piange la scomparsa di una leggenda, Muhammad Ali, noto per la sua grandezza sul ring e il suo impegno sociale al di fuori di esso, ci ha lasciati all'età di 74 anni. Nato Cassius Clay, Ali ha scalato le vette del pugilato mondiale con la sua straordinaria tecnica e la sua personalità carismatica. Vincitore di numerose battaglie sul ring, ha conquistato non solo titoli mondiali, ma anche il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Il suo motto «Sono il più grande» non era solo un'affermazione di fiducia in se stesso, ma una dichiarazione di determinazione e resilienza che lo ha reso un'icona globale. Ma Ali non è stato solo un campione dello sport. La sua lotta contro le ingiustizie sociali e il suo impegno per la pace e l'uguaglianza lo hanno reso un leader spirituale per molte persone in tutto il mondo. Attraverso la sua voce forte e le sue azioni coraggiose, ha ispirato generazioni a lottare per la giustizia e a difendere i propri valori con fermezza e dignità. Anche dopo il ritiro dal pugilato, Ali ha continuato a essere una figura di spicco nella società, impegnandosi attivamente per la sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson e sostenendo la ricerca per trovare una cura. La sua partecipazione agli eventi sportivi e sociali è stata sempre accolta con entusiasmo e rispetto, dimostrando l'impatto duraturo che ha avuto sulla vita di molte persone. L'ultimo capitolo della vita di Ali è stato segnato da una lotta contro la malattia, ma anche in questo ha dimostrato una forza e una dignità straordinarie. La sua morte ha suscitato un'ondata di dolore e commozione in tutto il mondo, contributi che arrivano da tutti gli angoli del globo. I suoi funerali sono stati un'occasione per il mondo intero per rendere omaggio a questo gigante dello sport e dell'umanità. Mentre la sua città natale, Louisville, gli ha dato l'addio con una cerimonia commovente e toccante, il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato, ispirando futuri campioni e leader a seguire le sue orme e a lottare per un mondo migliore.